Sì Tutti i pesci sono qua dentro. E se fai lo aprono. A me le gambe. Guarda che belli. Non ha bisogno della mamma. È un po' so' 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 so. Non non lo so, non ho mai. Non ti pare, non ti pare. Ecco! Ecco, ecco. Ecco! Ma è buona questa camera, ma c'è il coraggio, il coraggio che hai a farci vedere. Non lo sai se devo fare un animale, io ho tipo una capretta e non ce la faccio. E questo è un lato di squadra. Eccoli, eccoli. No, ma che stanno? Che c'è il pirilla? Oh, c'è tanto. Quanti le tue? Ma tu quanti le tue? Ma te l'ho detto? Quasi mille, mille, mille e venti. Diciamo,バイcani che stanno sinistro e per l'esame di due, 15, 16, 17 , 19, 20, 21, 22, 23. E quello che stanno più? No. Ma no, aiuta che stanno ancora qua. Sono dalla sacca stanno. Mammaa... Madonna, guai! Oh no! Ma quant'era allora, 22? 23, 24, 23, 26, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 45, 47, 41, 48, 55,